Tutto pronto per la prima uscita del Carnevale Aretino dell'Orciolaia. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, torna l'evento con un nuovo format e in accordo con il Comune di Arezzo in una nuova location più vicina al centro storico. Tre gli appuntamenti in programma il 5, il 12 e il 19 febbraio 2023 all'interno del Parco Aldo Ducci in via Montefalco. Trovandosi proprio all'interno di un parco cittadino, le sfilate subiranno delle inevitabili modifiche. Non ci saranno infatti carri allegorici, ma sarà comunque possibile immergersi in un percorso pieno di animazione e divertimento con giochi e musica, laboratori per grandi e piccini all'insegna del circo e della giocoleria. Pronto a tornare anche il Carnevale più antico d'Italia, quello di Fogliano della Chiana. Dal 5 febbraio al 5 marzo, per cinque domeniche, verrà celebrata la 484esima edizione di una delle manifestazioni che vanta più storia. Il Borgo Aretino tornerà così ad essere capitale decoriandoli, celebrando il Carnevale con la sfilata dei giganti di cartapesta e tanti appuntamenti per grandi e piccini, dalla musica all'enogastronomia, passando per l'arte. Quattro, come sempre, carri allegorici in gara, rispettivamente realizzati dai quattro cantieri, azzurri, bombolono, tambuli e rustici, che dalla prima domenica daranno vita a vere e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le vie del centro storico di Fogliano.